a mille chilometri da voi ma il pensiero solo a voi alla mia terra e alla mia gente vi prego state a casa mi raccomando per la salute di tutti restate a casa fai come noi fate come noi state a casa papà state a casa che stanno andando fate come noi state a casa e fate come noi state a casa che poi fa freddo dentro figurati fuori ma statene a casa vai con noi state a casa ragazzi mi raccomando state a casa ragazzi fate come noi fate i rascatini state a casa che piacere state a casa ciao amici fai come noi state a casa quando vuoi che state alla tonico state a casa qua a Milano è arrivato l'esercito perché la gente non resta a casa non mi facciamo chiamare questo non mi raccomando state a casa ma io mi raccomando state a casa eh sì ma sono nel mio giardino la Roma appella a tutta la tua amichezza state da casa fate come noi state a casa ma io rimedi un po' la quarantena pasta di casa che non siete eh sì ande come ti chiami la sua futta state a casa resistenza resta a casa resiste a casa anche questa è una forma di resistenza state a casa mi raccomando state a casa restiamo a casa non solo per proteggere noi stessi ma per proteggere le persone che amiamo fate come noi state a casa state a casa se è necessario che hai assì io si do un balcone grazie 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 grazie